Fermi tutti, oggi vi ho portato la console più potente mai vista su questo canale Emula oltre a tutto il retro gaming fino alla Playstation 2 in maniera eccezionale fluidissima oltre ad essere ovviamente Android 13 Di cosa sto parlando? Ma della nuovissima Ambernic RG Cube Una console che può veramente fare in pallidire quella che fino adesso era la mia preferita ovvero la 405 sempre di Ambernic Ne vale la pena fare quest'upgrade per chi è consigliata? Scopriamo questo e molto altro in questo nuovo video E allora andiamo subito a vedere come si presenta questa console quando vi arriva a casa nel suo cartone oramai marchio di fabbrica del Ambernic tutto bianco modello RG Cube Facciamo subito l'apertura molto semplice ma funzionale nella sua confezione Abbiamo la console che viene consegnata nel suo bumperino protettivo con la plastica intorno Eccola qua Andremo a vedere anche i tasti per capire un po' come il feedback tattile di tutti i tasti fisici All'interno della confezione troviamo anche una protezione per il display ed è fondamentale Raga mettetela subito appena ne avete la possibilità La pezzetta per installarla tutto è necessario Più il flyer ovvero un libretto di istruzioni rapide anche in inglese per la scorciatoia dei comandi Questo è tutto quello che c'è nella confezione quindi direi di passare direttamente a vedere la console Console che si impugna benissimo in mano raga Io quello che voglio farvi notare è che ha anche queste sporgenze rivestite con un materiale non di plastica Ma comunque zigrinato che ti permette di acchiappare e tenere la console bene Senza aver bisogno per forza dei mignoli sotto Quindi veramente si impugna benissimo Forse è un po' da rivedere questa scelta di avere gli stick analogici incrociati Però ovviamente è una cosa che spesso succede in Ambernic Abbiamo la croce direzionale qui che è unica Anche questa forse sarebbe potuta essere migliore se messa singola senza appunto il cerchio totale Poi abbiamo i tasti che vanno benissimo Non c'è nessun problema di scivolamento nelle dita Poi per quanto riguarda la parte frontale abbiamo il display 4 pollici Questa è una soluzione che non era mai stata vista su una console così potente da parte di Ambernic Perché appunto storce un po' il naso se volete usare Android In quanto ovviamente le app e tutto il resto come per esempio YouTube Sono ottimizzati per i 16 noni Ma vedremo un po' come funziona Poi abbiamo anche il tasto Home per tornare indietro E direttamente il tasto del frontend Ambernic Cioè con questo tornate o entrate direttamente nella parte retro gaming della console Poi abbiamo il tasto Select e Start Sul retro abbiamo i tasti analogici Che sono tasti proprio fisici raga Vedete c'è la corsa quindi non è soltanto spento acceso Sono veramente ben fatti Non noto nessuno scricchiolamento particolare Sopra abbiamo l'ingresso jack microfonico Questo qui per le cuffie Abbiamo l'alloggiamento per la scheda SD Che può arrivare in dotazione nella versione da 128 O come questa la 256 Ma c'è anche la possibilità di avere soltanto la console Se magari sapete smanettare Quindi installarvi le vostre ROM sulla console Poi abbiamo l'ingresso per la ricarica Sulla parte posteriore i due speaker che suonano fortissimo raga E novità abbiamo su questa console Anche la ventola e il dissipatore Essendo molto potente fa girare i giochi veramente molto pesanti E appunto la dissipazione è una cosa fondamentale Noto già questa come prima differenza dalla RG405M Che è in metallo ovviamente è fatta benissimo Ma non ha la ventola per dissipare il calore Ma non è solo questa la differenza Quindi adesso andiamola ad accendere Installiamo il profilo Google Facciamo andare a Android E vediamo come va 5 minuti dopo Raga siamo pronti Nel frattempo che la console si avvii Ecco qua ho messo già una bellissima schermata Ho personalizzato la home La schermata di blocco Insomma tutto facile e semplice Come un dispositivo Android Ovviamente touch Nessun problema Un po' di caratteristiche tecniche Visto che qua c'è la RG405M Per capire un po' la differenza Non ci limitiamo soltanto alla presenza della ventola Quindi questa è la prima cosa fisica Che si nota di differenza Oltre al fatto che appunto Qui abbiamo un display 4 terzi quadrato Invece di questo qua che è sui rettangolare Ma con una risoluzione Raga 720x720 Quindi qua parliamo già dell'HD Raga Io voglio farvi vedere Se per esempio avvio Un gioco per Android Per esempio Stumbleguys Purtroppo non rende i colori All'interno della videocamera Ma vi posso dire Che la differenza Da questa Che ha una risoluzione Di 6,40x480 È veramente tanto Nel frattempo ne approfitto Per farvi sentire come suona Ecco sto un attimo in silenzio Perché altrimenti Non si sente la mia voce Ma è fortissimo raga Abbassiamo E vi posso dire raga Che giocare a Stumbleguys Come qualsiasi altro gioco Da questa console Piuttosto che all'RG405 Si vede la differenza Se noi avviamo una partita Sì ok Abbiamo uno schermo che è zoomato Perché comunque Perderete i dettagli Perché obiettivamente Non è concepita Per giocare tanto I giochi Android Quindi comunque vedrete La schermata Che è zoomata Per poter rientrare nello schermo Invece su YouTube Troverete le classiche Bande laterali E sono anche belle grandi Devo dire Però vi posso dire Che la qualità Dell'HD Fa la differenza Fermo restando Che comunque È un Android 13 Che vi permette Di usare YouTube Ma non penso che sarà Il vostro Diciamo Dispositivo principale Per usare appunto Android È veramente Una cosa unica Io provo a giocare Qua una partita A StumbleGuys Che non gioco Da una vita Raga Perché oramai Sapete benissimo Chi mi seguirà parecchio Sul canale Che siamo tornati Ai tempi d'oro Dei giochi Della Supercell Con Squadbusters Non so Se ho perso Il mio tocco Però direi che Non sto andando Tanto male Anzi per nulla Forse Riesco a fare anche primo Vi posso dire Raga Che davvero È una cosa Incredibile Come rende Spero che si veda anche All'interno Ecco Devo alzare anche un po' Forse la console Perché stavo giocando E non guardavo la fotocamera Però devo dire Raga Che davvero È una cosa incredibile Qualificato come primo Con il tasto diretto Del back Switchate la console Direttamente Alla parte retro gaming E qui raga Potete veramente Sbizzarrirvi Perché abbiamo PS2 Io spero che si riesca A vedere All'interno Della fotocamera Però ovviamente La messa a fuoco Non è mai perfetta Anche perché c'è il faretto Però ci sono 32 giochi Di PlayStation 2 Raga Vi posso dire Che girano benissimo God of War Devil May Cry Insomma Davvero Tanta roba I Resident Evil E anche questi Obiettivamente Non sono Ottimizzati Per uno schermo 4 terzi Che è tipicamente Uno schermo Per retro gaming Però vi posso dire Che la resa grafica È fenomenale Io Lo preferisco A quel display E ho notato La differenza Assolutamente Per quanto riguarda Appunto La qualità visiva Altre console Naomi NGP Dreamcast Gameboy Color Il Mame Raga è il Mame Ma sapete quanto c'è di Mame Capcom System 3 Nintendo 64 Il Sega Saturn La Playstation 1 L'indimenticabile Capcom System 2 SNES Neo Geo Gameboy Color Mega Drive Capcom System 1 Sono tutti in ordine Di produzione Dal più recente Al meno recente PCI Sega Master System E il Nintendo Quello che voglio farvi vedere È per esempio Una simulazione Retro gaming Di un gioco Storico Come Mortal Kombat Questo piuttosto Che Street Fighter Sono giochi storici Per chi come me Ha vissuto Nelle sala giochi Guardate raga Alziamo un po' il volume La cosa bella È che lo schermo Che ovviamente Nasceva in questo modo Per le sala giochi Prendiamo intanto Sub Zero È sistemato Con questa Diciamo Plancia dei comandi Che richiamano appunto Alle sala giochi E quindi Questa è veramente Una bella cosa Quindi io sono Veramente contento Attenzione Perché comunque Qua si tratta di giocare Voglio farvi sentire Un attimo Il volume Al massimo Sto un attimo In silenzio Vediamo se riesco A fare qualcosina Opla Uno Raga ma di che stiamo parlando Raga Stiamo parlando di una storia Tanta roba Anche perché Ci sono giochi Per tutte le età Opa Attenzione Vediamo se riusciamo A uccidere Baraka Baraka E la super mossa Com'era E vabbè È andata Raga Questo è Mortal Kombat 2 Ovviamente Potete fare una ricerca Per i giochi Semplicemente digitando Poi un gioco Di cui vi ricordate Il nome E raga Penso di avervi detto Tutto perché Questa veramente Per me È una console A non farsi scappare Vi faccio vedere Soltanto al volo YouTube Perché obiettivamente Bisogna fare capire Anche un po' Diciamo I contro Abbassiamo un po' Il volume Perché È fortissimo Raga Ecco come si vede YouTube Vedete Ci sono le bande laterali Però raga Io cercherò di zoomare All'interno del video Per farvi vedere Che Questa versione Che ha un display HD Ha veramente Un surplus Per queste console Vedete Innanzitutto la qualità Adesso qua Non è neanche al massimo Mettiamola ecco A 1080 E vedete che Veramente Si vede Benissimo Per quello che Ovviamente È una console Android Che potete portare Ovunque Completiamo La descrizione Di questa Ambernic Dicendo che Ha un processore Octa-core Molto più performante E nuovo Di questo predecessore Quindi comunque Nulla di Assolutamente Diversissimo Però Segnaliamo Che ha Un processore Più nuovo E più potente Ha il doppio Della RAM 8 giga Contro i4 Della 450 Lo schermo Abbiamo già detto Che è un HD 4 pollici 60 hertz La batteria 5200 ampere Che batte anche questa Bella grossa Da 4500 Se non ricordo male Android 13 Anziché Android 12 La ROM interna Da 128 Che può supportare Le micro sd Fino a 2 terabyte Invece qua Fino a 1 terabyte E come dicevo all'inizio Appunto La presenza Della ventola E del dissipatore Per quanto riguarda Il calore Detto questo Torniamo indietro E lascio spazio Alle considerazioni Finali E allora raga Dopo aver visto Tutto questo È il momento Del verdetto Quale console Consiglio Fra le due Ok raga Io preferisco A questo punto La nuovissima RG Cube Perché Perché comunque Ha un display HD È veramente Una resa Spaziale In più È ancora Più performante Processore più nuovo RAM raddoppiata Batteria Ancora più grande Ergonomia Ai massimi livelli Insomma raga La consiglio A tutti Se non avete Già un'altra Console Retro gaming Ma fatemi sapere Nei commenti Se siete interessati A questa console Che trovate Nel link Qui sotto In descrizione Grazie All'amici Di Jack Buying Noi ci vediamo Nel prossimo video E ciao